Lambrenedetto è la comune dell'amore libero di Lambrenedetto avevo annunciato in un video che avrei deciso di fare una comune e feci un video da Tenerife e lo feci mettere sul canale del capofrutta il fruttariano quello che poi quello che poi è andato ciò Darwin e Max Gaetano e la gente rideva rideva perché il piteco ride sempre invece annuncio che la comune si farà nel mese di settembre inizierà la comune lo start up della comune si farà e si farà nella villa castello residenza del conte Mascetti scopritore scopritore del viagra naturale con le sue erbe diafrodite a Mursia nel mese di settembre la comune dell'amore libero dove per ora otto persone sono già state selezionate e c'è ancora posto per quattro persone quattro persone e quindi lanceremo le candidature perché faremo 12 persone anche se adesso vediamo perché praticamente nella villa residenza del conte abbiamo dieci stanze da letto molto moderne e sette bagni però per non stare troppo larghi avevamo pensato di fare 12 dalle 12 alle 15 diciamo che ci sono aperti ancora 46 posti gli altri posti ce le abbiamo perché ci sarà una pornostar un personaggio del web molto famoso avremo una nazi vegana un capofrutta una naturista e poi ci sarà uno scrittore e quindi stiamo selezionando delle altre persone dietro abbiamo pure il parco qui anche c'è c'è di dietro nella villa del conte nella villa del conte che continua che però gira va bene nella villa del conte che poi va bene l'interno lo faremo vedere più avanti nella villa del conte ci abbiamo anche il campo da basket di dietro se si vuole fare una partita ci abbiamo anche piante di limone arancita tra tutta la cosa di dietro e qui faremo lo start up perché poi la comune di lambrevedetto dell'amore libero la vera location sarà a tenerife però qui faremo lo start up ok faremo il mese di start up qua il tutto poi andrà streaming andrà online abbiamo bisogno di altre quattro persone 4 barra 6 perché le persone le teniamo avremo la presenza di un grande blogger e di uno di un grande montatore che quello faranno tutti i video e filmati ok e quindi la faremo qui è il centro della comune come dicevo già sono le narrazioni le narrazioni serali quindi voglio gente che narra eccetera eccetera della comune dell'amore libero tutto è libero l'importante che non vi portate qua roba di droga perché roba di droga mi manda un fanculo vi affosso io nella fonda nella piscina perché la p la droga la odio e mi stanno sul cazzo i drogati i cocainomeni tutta quella merda di gente lì ok mandate le candidature per la comune e a settembre cominceremo con la comune dell'amore libero e la benedetto ciao ragazzi